amici di motorsport.com ciao a tutti da Beatrice Frangione benvenuti a questo nuovo report l'ultimo di questo 2021 dedicato al mondo delle due ruote nello specifico al campionato superbike in cui andremo ad analizzare quanto visto nell'appuntamento indonesiano quello decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale lo potete vedere anche dagli occhi che brillano della mia collega con lei che è la responsabile di sezione per motorsport.com Lorenza D'Aderio ciao Lorenza ciao Beatrice ciao tutti ben ritrovati a questo ultimissimo appuntamento per commentare le gare di questa stagione 2021 che ci ha regalato uno spettacolo mondiale clamoroso una meraviglia dall'inizio alla fine abbiamo atteso circa un mesetto prima di conoscere l'esito definitivo di questo mondiale eh tra il round di Mandalika l'ultimo che è stato disputato questo fine settimana e quello di El Villicum a San Juan in Argentina è passato un mese in questo mese l'attesa era molta ma le aspettative non sono state deluse la nuovissima pista indonesiana ha offerto grande spettacolo ma soprattutto ci ha regalato un nuovo campione del mondo ebbene sì Jonathan Ray abdica e Toprak Ratgatioglu è il nuovo campione del mondo vince il titolo 2021 batte il campionissimo interrompe il dominio Jonathan Ray con la sua Kawasaki aveva conquistato ben sei titoli consecutivi il settimo dovrà aspettare perché il pilota Yamaha interrompe questo grandissimo dominio si impone in questo 2021 e vince il titolo mondiale e con una gara di anticipo perché lo conquista in gara 1 Toprak con una gara con una gara d'anticipo come mai Lorenzo? Perché comunque arrivava già con 30 punti di vantaggio e gli bastavano solamente cinque punti per poter matematicamente conquistare il mondiale diciamo che per Ray l'impresa era difficile non impossibile ma sicuramente per il sei volte campione del mondo era indubbiamente complicato cercare di mettere un freno a un Ratgatioglu praticamente perfetto è il primo turco a conquistare il titolo mondiale in superbike è il secondo pilota ad essere campione del mondo con la Yamaha dopo Ben Spice nel 2009 ed è il terzo pilota più giovane della categoria dopo James Toseland e Troy Corsair che non hanno bisogno di spiegazioni gli appassionati della superbike sanno benissimo di chi stiamo parlando quindi insomma Toprak si consacra definitivamente entra fra i grandi non che ce ne fosse bisogno ma lui lo ha dimostrato conquistando il titolo iridato quindi decisamente una stagione solida e che non dimenticheremo. Devo dire che l'entusiasmo che stai dimostrando nel raccontare di questo titolo prevarica un po' sul sul tipo di orari che hai dovuto diciamo vivere per per il fine settimana indonesiano perché è stato un particolare weekend in cui soprattutto la pioggia è stata protagonista oltre che i due antagonisti due rivali per il titolo Lorenza. Beh sì noi europei abbiamo un po' faticato in questo senso con gli orari però ne ha verso assolutamente la pena perché abbiamo assistito a uno dei round più spettacolari e più adrenalinici di questa stagione e alla fine siamo tornati al vecchio format quello a cui eravamo tutti abituati di disputare due gare la domenica sì perché come hai detto la pioggia è stata protagonista del sabato in gara 1 ha costretto i piloti ormai già schierati in griglia a fermare tutte le procedure di partenza e questo ricordiamo che in indonesia è il periodo dei monzoni quindi non è raro trovare una situazione meteorologica che rende la pista abbastanza difficile e impraticabile quindi pioggia scrosciante che si è abbattuta sul tracciato di mandalica e ha costretto la direzione gara prima a posticipare la partenza e poi a cancellare gara 1 per rimandarla al giorno seguente. Quindi dai 62 punti in palio che si avevano in indonesia con le due gare lunghe e la super pole race siamo tornati al vecchio format con gara 1 la domenica mattina e gara 2 la domenica pomeriggio quindi 50 punti per jonathan ray la missione era diventata ancora più difficile e si è rivelata a un certo punto veramente impossibile perché nessuno si è risparmiato in gara e neanche toprack a volte i piloti tendono a essere un po' a braccino quando stanno sul punto di conquistare il titolo ma lui non ne ha mai menzionato e ha sempre detto io corro per vincere il campionato cos'è il campionato grazie toprack perché ci hai regalato una gara meravigliosa qualche rischio se l'è preso forse qualcuno può dire un po' inutile magari sì ma a posteriori sicuramente ha pagato ci hanno regalato in gara 1 disputata domenica mattina un grandissimo spettacolo stessa cosa per gara 2 perché in gara 2 si si perché era incertissima gara 2 si pensava anche che questa venisse poi cancellata ma ti volevo chiedere prima di parlare di quello che ha regalato anche gara 2 tu ti aspettavi questo esito mondiale lorenzo ti aspettavi una vittoria del turco assolutamente sì e razgatioglu è stato praticamente perfetto gli unici tre passi falsi della sua stagione sono stati causati da problemi esterni ad assen è stato tirato giù da gara e pierloff a barcellona è stato tradito dall elettronica e apportimato dal parafango che si è staccato quindi gli unici tre zeri in cui ha incappato il turco sono stati non per causa sua non ha commesso alcun errore ha mandato un po in crisi jonathan rei è il pilota che ha vinto il maggior numero di gare 13 successi 28 podi un ruolino di marcia incredibile per top rack rasgatioglu che ha vinto meno super pole race rispetto a jonathan rei ma alle gare lunghe si sa hanno un peso maggiore quindi sicuramente un mondiale stra stra meritato se pensiamo che su 35 gare disputate le vittorie sono state 13 quindi insomma veramente solida la stagione del pilota yamaha che comunque era solo alla sua seconda stagione in sella alla r1 mentre kawasaki vanta una certa esperienza nel binomio zx 10 rr jonathan rei quindi sì me lo aspettavo anche visto l'ampio vantaggio in classifica ascolta ritorniamo parlare di gara 2 perché appunto come detto prima è stata una gara incerta fino alla fine però comunque ha regalato un ulteriore spettacolo perché anche assegnato altri titoli esatto pronti via si pensava gara 2 fosse lineare e invece essendo allo stesso orario di gara 1 del sabato sono sorti gli stessi problemi pioggia battente di nuovo partenza ritardata però a differenza di sabato in cui si è deciso di non correre e di posticipare la prima manche al giorno successivo si è riusciti a portare in pista le moto e quindi i piloti in gara 2 ci hanno regalato spettacolo per l'ultima volta in questa stagione ma non mancava anche una certa competitività perché erano in ballo diversi titoli il primo fra tutti quello costruttori portato a casa iwata quindi yamaha vince la fada padrona in questo 2021 titolo piloti con rasgatioglu titolo costruttori per yamaha grazie anche al contributo degli altri portacolori andrea locatelli gherloff e scottano zane autore di una splendida prestazione in gara 2 che gli consegna la top 10 forse una delle poche nel 2021 una stagione un po difficile andrea locatelli che diventa il miglior rookie della stagione battendo axel bassani i due erano in lotta per appunto il mondialito se vogliamo definirlo così di migliore esordiente del 2021 stava avendo la meglio bassani che in forza al team moto corsa era in lotta addirittura per per il podio poi una caduta ha rovinato i piani del del pilota italiano e quindi il titolo di rookie dell'anno è andato ad andrea locatelli titolo comunque assolutamente meritato la stagione di debutto del bergamasco è stata veramente solida e increscendo quindi indubbiamente una battaglia combattuta fino alla fine ma che in qualunque caso avrebbe assegnato il titolo a chi lo meritava di più garet gerloff conquista il miglior titolo degli indipendenti quindi una una stagione veramente veramente di successo per yamaha perché ricordiamo che lo statunitense è in forza al team grt indipendente di yamaha tra l'altro gara 2 oltre che ad aver regalato tutto questo ha regalato anche una parte molto emozionante ecco già vedo già che ti c'è per mettere a piagna come diresti tu dalle tue parti no resisti però mi devi perché mi raccontare il motivo cioè per qualcuno è stata l'ultima gara era l'ultima gara per per diversi piloti tom sykes in sala la bmw ha disputato la sua ultima il suo ultimo fine settimana in superbike molto probabilmente approderà al bsb quindi non una carriera finita per lui stesso discorso per lion aslam la sua ultima gara con la honda purtroppo il pilota britannico in realtà ha dovuto concludere in anticipo la sua stagione e la sua avventura in superbike a causa del del forfè dovuto dare il sabato a causa di un infortunio che purtroppo non gli ha concesso di finire la stagione come avrebbe voluto ma in realtà gara 2 è emotiva soprattutto per l'addio di chas davis il gallese è stato un grandissimo protagonista di questo mondiale ha lottato anche per il titolo con jonathan ray in diverse occasioni quando correva per il team ufficiale ducati un pilota eccezionale e forse ancora più ancora migliore come persona è sempre stato un una personalità interessante all'interno del paddock mancherà moltissimo sicuramente ma quello che gli auguriamo è veramente di avere di vivere al massimo la no la nuova tappa di questa sua vita dedicarsi alla alla bambina e a quello che ama fare insomma ha regalato tanto alla superbike lo abbiamo visto perché l'emozione è stata grande quando ha passato il traguardo ha carezzato la sua ducati il team go eleven indipendente che fa riferimento sempre a burgo panigale era visibilmente emozionato e con lui in realtà tutti quanti noi perché voglio dire chas davis è stato e resterà sempre una figura importante in questo paddock quindi spazio anche all'emotività in questo round superbike che ci ha regalato tantissime emozioni così come in realtà tutta la stagione 2021 e proprio perché mi stai dando l'assist di tutta la stagione 2021 devo dire che comunque anche per quanto riguarda altri campionati ci sono grandi sorprese era da tanto tempo che non si vedeva un mondiale così combattuto anche eh per quanto riguarda le quattro ruote mi viene in mente appunto la la formula uno ehm ti voglio chiedere prima di chiudere poi la il nostro report ma so che ti emozionerai già tantissimo perché poi bisognerà aspettare il 2022 per andare a raccontare una con un'altra serie di report quello che accadrà in una nuova stagione con toprac campione del mondo in carica strano eh sentirlo dire ti volevo chiedere qual è stata la sorpresa e qual è stata la dilusione per te in questo 2021 del mondiale di superbike allora bella domanda la sorpresa sicuramente Axel Bassani eh correva con una Ducati che non era all'altezza di di quella di Scott Redding di Michael Ruben Rinaldi per esempio che sono i portacolori ufficiali ehm almeno Redding fino a domenica lo era poi nel 2022 andrà in BMW ma questa è un'altra storia Bassani però è riuscito a conquistare un podio a farsi valere era il pilota più giovane della griglia eh quello con meno esperienza ma durante la stagione si è mostrato anche in grado di lottare con i più grandi Mandalika per esempio lo ha dimostrato ehm fino a quando non è caduto tra l'altro eh ricordiamo scivolato per un contatto con Michael Vandermark quindi in realtà non è neanche totalmente colpa sua eh però era in lotta per le posizioni del podio era riuscito anche a a mettere le ruote davanti a quelle di Jonathan Ray e anche di Toprak Razgatioglu che in gara due era già campione del mondo quindi essere davanti a due campioni del mondo è ancora da ancora più valore a quella che è stata la sua stagione mi sento di dire in un certo senso anche Andrea Locatelli una bella sorpresa perché ha iniziato un po' in sordina ma ha fatto una stagione in crescendo mh anche lui è riuscito a salire sul podio ha in qualche modo eh la no sfortuna però è nella squadra del campione in carica Razgatioglu che è veramente il grande fenomeno di questa superbike moderna quindi è difficile valutarlo facendo un confronto con il compagno di box ma comunque se guardiamo solamente la sua stagione è sicuramente di rilievo delusione mh eh io ho già paura di il nome che stai per fare vai vai sì sì credo sia proprio lui Rinaldi ecco un pochino sì mi aspettavo qualcosa di più da Michael eh ha vinto a Misano e sembrava veramente lanciato verso una stagione di di grandi successi poi ha incappato in diverse difficoltà anche in gara due domenica mandalica è scivolato non una stagione facile per il romagnolo eh lo dico con dispiacere perché secondo me è un ottimo pilota equipaggiato di un mezzo eccezionale che potrebbe fare potrebbe fare molto molto di più eh purtroppo anche quest'anno Ducati ha un po' peccato di incostanza ne avevamo già parlato in diverse occasioni e lo hanno continuato a dimostrare poi fino alla fine dell'anno anche Scott Redding puntava al titolo mondiale ma eh conclude il duemilaventuno con un terzo posto in classifica che voglio dire non è eh pessimo ma da quello che ci si aspettava forse è un po' meno eh di quello a cui si puntava eh quindi purtroppo sì la delusione di questo duemilaventuno è Rinaldi ma spero di potermi ricredere nel duemilaventidue che ci sta dando sulla carta almeno si prospetta veramente una stagione non dico come il duemilaventuno ma speriamo quasi. Prima di chiudere ufficialmente questa nostra puntata eh ti chiedo di aprire una piccola parentesi dedicata alla Supersport. Supersport ragazzi anche la Supersport ci ha regalato una stagione bellissima hanno interrotto il dominio del team Evan Bros che aveva conquistato il titolo nel duemilaventuno con Randy Krummenhacker e nel duemilaventuno con Andrea Locatelli. Era difficile fare meglio di Locatelli che ha disputato una stagione dominante nella classe 600 lo scorso anno eppure Dominic Gerter ha fatto veramente la differenza eh rispetto a tutti gli altri. Ha vinto il titolo con due round di anticipo quindi eh questo si dimostra il il valore dello svizzero che tra l'altro nel round di Barcellona era assente perché era impegnato nel nella Coppa del Mondo Moto E quindi il team Tencate Yamaha conquista il titolo costruttori e Dominic Gerter quello piloti Evan Bros vice campione del mondo con Steven Oden Dahl ma anche in questo caso Mandalika forse è una delle gare più belle della stagione della classe 600. De Rosa conquista la sua prima vittoria in in super sport dopo tanti anni è un veterano ormai della classe ma riesce a centrare il successo per la prima volta in gara 1 il sabato e gara 2 ci regala delle battaglie fino al fino alla bandiera a scacchi proprio con protagonisti Dominic Gerter, Niki Tuli l'unico equipaggiato di una moto diversa rispetto alle Yamaha e alle Kawasaki perché ricordiamo essere la guida dell'AMV e Federico Caricasulo che secondo me può essere la grande sorpresa di questo 2021 della super sport ragazzi che bello questo 2021 13 round 35 gare di emozioni ne abbiamo vissute veramente tantissime da le più belle alle più dolorose perché non possiamo dimenticare il round di Ferez però è bella la super bike. Lorenza siamo giunte alla conclusione amici di motorsport.com di questo report dedicato all'appuntamento di Mandalika io ti ringrazio per tutte le analisi insomma abbiamo iniziato a fare insieme poi questi report e io devo dire che mi sono sempre un sacco divertita wow Lorenza wow Carlo non si era mai visto questo su motorsport.com invece nel 2021 si è anche visto un report tutto al femminile dedicato alla super bike che quest'anno ci ha fatto divertire come non vedevamo forse da da tantissimo tempo io ringrazio te ringrazio tutti i nostri amici di motorsport.com che ci hanno seguito per tutta la stagione e sicuramente eh un plauso va anche a loro che con attenzione hanno sempre commentato e ci hanno sempre seguiti con affetto con interesse anche con con competenza quindi noi non possiamo far altro che salutare la stagione 2021 introdurre il 2022 perché ragazzi le gare è ancora non abbiamo ancora un calendario per la super bike ma ci saranno i test ci sarà l'inverno che sarà di preparazione al 2022 tanti cambi di casacche un ricambio generazionale interessante perché ci sono molti giovani quindi noi comunque durante l'inverno vi terremo compagnia con la super bike perché noi non possiamo stare troppo tempo senza le derivate di serie quindi non vi libererete facilmente del dinomio Beatrice Lorenza che vi racconteranno un pochino la preparazione al 2022 e mi raccomando amici di motorsport.com iscrivetevi al nostro canale attivate la campanella delle notifiche per ricevere tutti i nostri aggiornamenti e per interviste approfondimenti video podcast esclusivi vi invitiamo a provare ad iscrivervi alla sezione prime di motorsport.com ciao a tutti ciao grazie puoi avere nel palmo di una mano il meglio dell'informazione motoristica sportiva a 1 euro e 99 al mese motorsport prime e sei in pole position ciao a tutti Grazie a tutti.